Presidente Totti, la domanda che i cittadini si fanno è quando lei farà il vaccino e se lo farà chiaramente. Evidentemente il prima possibile perché non solo sono entusiasta, io mi vaccino per tutto quello che è possibile vaccinarsi e questo non fa eccezione, anzi per questo ho particolare voglia di farlo. Dopodiché abbiamo deciso anche consultando al Ministero, al Ministro Speranza e le linee guida ministeriali sulla vaccinazione che prima, visto che abbiamo scarsezza di dosi, era giusto destinarle alla popolazione medica, sanitaria e dell'RSA più esposta al contagio del virus di quanto non possa essere il Presidente della Regione. Quindi non appena sarà il mio turno sarò lì con anticipo e puntualità. Chiederà consiglieri e assessori di farlo? Assolutamente sì, per me il vaccino è un obbligo morale, tutti devono fare il vaccino e tutti devono proteggere la loro salute. Moltissima cosa, in politica c'è qualcuno anche nel centro-destra che non è convinto del vaccino? No, ho sentito tutti prese di posizione molto favorevoli al vaccino e d'altra parte dopo quello che abbiamo vissuto sarebbe sconsiderato il contrario.